Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento World of Warcraft, Wrath of the Leech King, nel Pandemic System, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente, come sempre di cuore, per la copia fornita. Un gioco molto interessante che utilizza il Pandemic System, che ormai è un sistema praticamente universale, su cui stanno facendo tante ambientazioni, e devo dire che come sistema universale gira veramente da paura ed è divertentissimo in un gioco che richiama tutti quanti gli amanti di World of Warcraft, tipo me, ma non solo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. World of Warcraft, Wrath of the Leech King, in questa edizione di Asmod Italia nel Pandemic System, è un gioco che vi vede andare a interpretare personaggi sia dell'Alleanza che Lorda, quindi si vedrà Jaina o Revrin, mentre dall'altra parte magari si vedranno Sylvanas, per farvi un esempio, e Thrall, che tra l'altro Thrall è il personaggio più iconico e più bello, e il più vecchio in questa scatola, ma proprio dall'ambientazione di World of Warcraft, e dovrete andare a Northrend, Nordania, a confrontarvi con il Leech King, Arthas. In questo sistema, che fondamentalmente è il solito sistema di Pandemic, abbiamo tutta quanta la mappa di Northrend, io scusate lo chiamo in inglese perché in Nordania non lo posso sentire, abbiamo tutta quanta la mappa di Northrend, in questo gioco completamente cooperativo, dove noi dovremo andare a combattere i servi del Leech King, che poi sono i Goul e gli Abomini. Gli Abomini vi ricordate? Quelli giganti con le falce che vi ho fatto vedere in fase di unboxing. Noi dovremmo far sì di, il nostro obiettivo sarà quello di fermare l'avanzata delle truppe del Leech King, arrivando a fare tre imprese che saranno scelte nel setup iniziale della partita casualmente, quindi dovremmo fare queste tre imprese, completare queste tre imprese, che saranno completate facendo un punteggio, lanciando il dado di un colpito, o anche giocando carte particolari che vadano un po' a darti un bonus maggiore o la possanza. Una volta finite queste tre imprese, potremo fare l'impresa finale, che sarà l'assalto al centro mappa, alla rocca, di The Artas, del Leech King. Ma nel frattempo dovremo anche combattere tutti quanti Goul e gli Abomini in giro per la mappa, perché gli Abomini, a fine delle nostre quattro azioni di turno, ci verranno a cercare e ci mazzoleranno. Ma dopo tre goal che saranno nella stessa zona, il quarto che andrete ad inserirci farà aumentare una barra particolare, che è una barra praticamente del terrore, e questo a crescere di punteggio arriverà a un certo punto che vi farà fallire la missione. E la missione può anche fallire se vengono pescate, al momento del pescaggio delle carte successiva alle quattro azioni, delle carte particolari che fanno aumentare questa barra. Quindi andando a aumentare si potrebbe perdere la partita in quel modo lì. O anche quando il nostro personaggio viene sconfitto e non sale di uno, come nel caso del quarto goal posizionato, come ho detto poc'anzi, ma sale bensì di due. Quindi quando il vostro personaggio sulla sua scheda arriva a zero punti ferita, questa barra sale di due e quindi quando arriva a fine avremo perso. L'obiettivo del gioco è quello di fare l'assalto alla fortezza del Leech King, sconfiggerlo giocando in cooperativa e dandosi manforte fra giocatori perché non c'è la possibilità di sabotarsi, questo è veramente un full cooperative e mi piace da morire, non avrebbe senso allearsi con il Leech King che combatte da solo, e arrivare alla rocca finale dove dovremo fare la quarta impresa. Dopo le tre principali, quarta impresa che è la torre di Arthas, fatta quell'impresa abbiamo vinto la partita. Per perdere la partita, questa barra che vi ho detto inizialmente, è un po' una barra della crisi, deve arrivare fino in fondo e arrivando fino in fondo o che voi moriate o che voi lasciate la mappa piena zeppa di servi del signore del male, di Arthas sarà perduta, quindi questo è il modo per perdere la partita. È un gioco veramente velocissimo ragazzi, chi ha giocato a Pandemic, c'è poco di nuovo. In conclusione, questo World of Warcraft, Wrath of the Leech King, nel Pandemic System, edizione italiana a cura di Asmode, è un gioco perfetto, veloce, immediato per tutti gli amanti di World of Warcraft, per tutti gli amanti di Northrend, che è stata l'espansione più bella, Wrath of the Leech King, ma anche per chi gli piace tantissimo il gioco Pandemic, che io e mia moglie reputiamo uno dei più bei giochi e divertenti che ci sono sul mercato, questa volta in edizione World of Warcraft e stanno facendo anche più ambientazioni. È bello vedere che cambiano il setting, perché hanno capito di avere tra le mani un sistema universale perfetto. Se lo volete ordinare, direttamente al nostro negozio sponsor, gioco libreria Semola, primo link in descrizione, in tutti i video e in sovrimpressione, al miglior prezzo sul mercato, e usate sempre il codice discount, Coridan7, per avere uno scontro del 7% e consegna in tutta Europa, anche fuori Italia, entro 24 ore, se superate la spesa di 79€, spese postali gratuite. Se lo trovate in lista ma è finito o proprio non c'è, mandate una mail al supporto, a Corrado, il proprietario del gioco libreria Semola, e gli fate presente che arrivate dal canale di Coridan e lui farà il possibile per farvi avere il gioco. Ancora una volta grazie di cuore ad Asmo d'Italia e ragazzi, per me è un gioiellino, un bel gioco fantasy e farà il divertimento di tutti. Ciao, alla prossima!